L'analisi del settore residenziale relativa al secondo semestre del 2018 evidenzia che in Abruzzo i prezzi richiesti da chi vende casa sono scesi ancora dell'1%. Studiando le oscillazioni dell'ultimo trimestre si evince che il settore vendita raggiunge la stabilità e quello delle locazioni riduce la distanza con il punto di pareggio, meno 0,8%. Sulla base dei dati raccolti dall'osservatorio di immobiliare.it nel mese di dicembre 2018 il prezzo medio richiesto per un'abitazione in vendita è stato di 1.492 euro al metro quadrato mentre quello per la locazione di 6,48 euro al metro quadrato. L'oscillazione negativa è particolarmente evidente a Chieti dove i prezzi delle case in vendita hanno perso 4 punti percentuali su base semestrale. Va meglio a Pescara dove il calo si arresta a meno 1,4%. Pescara è anche il capoluogo più caro per quanto riguarda le compravendite. Acquistare una casa costa in media 1.762 euro al metro quadrato, ben oltre la media regionale e il 56% in più rispetto a Teramo, la città più economica. Teramo risulta la città abruzzese più economica anche per i canoni di locazione. L'oscillazione dei valori in questo caso è di meno 4,1%. A Chieti invece il mercato degli affitti risulta in ottima salute. I prezzi recuperano il 9,3% su base semestrale. Nella nostra regione il capoluogo più caro in cui affittare casa è ancora Pescara dove per un bilocale da 60 metri quadri servono in media 432 euro mentre a Teramo ne bastano 317. All'Aquila il prezzo per l'acquisto di un immobile è di circa 1.647 euro al metro quadrato mentre il canone medio è di 6,49 euro al metro quadrato con un calo del 2,4%. Parola molto semestrale. Parola molto semestrale. Parola la tavola. Parola molto semestru cinco... Grazie a tutti